Un calendario che è già partito perché non ci siamo mai fermati, nonostante le elezioni, abbiamo dato supporto a coloro che programmavano nel periodo di giugno e di luglio, abbiamo dato il patrocinio, anzi abbiamo fatto una cosa ancora più importante, quando abbiamo fatto la delibera per il calendario estivo abbiamo anche pensato di inserire eventi che già avevano svolto la loro attività come le festività a lavorate, come le festività ad episcopio, come il teatro masserie del comitato Serra Z, come le scuole di ballo. Diciamo abbiamo risposto a quello che poi erano le esigenze di coloro che programmano e organizzano. La maggior parte, posso dire che la maggior parte degli eventi che vedete sul territorio sono frutto di una collaborazione e sinergia tra associazione e comune di Sarno. Il comune quando mette il patrocinio non dà solamente l'esenzione del canone unico patrimoniale che è l'occupazione di suolo pubblico, ma interveniamo il più delle volte anche con il service, con il palco, diamo forse l'ottanta per cento di quello che poi è l'attività dell'evento. Le associazioni più delle volte ci mettono l'idea, noi ci mettiamo la parte materiale che è quella economica. Avete voluto un calendario che mettesse insieme arte, teatro, musica e che soprattutto andasse ad investire non solo il centro ma anche le aree e il nitrofe. Questo è grazie alla collaborazione e alla sinergia tra le associazioni, il nostro Consiglio Comunale, la parte soprattutto che riguarda la mia amministrazione e il delegato agli eventi e allo spettacolo che il più delle volte riesce a mettere insieme un po' quelle che sono le esigenze di tutti e da qui esce un bellissimo calendario. C'è l'evento di punta, non possiamo non raccontarlo, visto che Sarno è un po' la città dei grandi concerti, sia in estate che poi per la Notte Bianca, un grande artista quest'anno. Sì, un grande artista, un cantautore, credo che sia forse uno dei più bravi chitarristi sul parcoscenico italiano ancora oggi, nonostante la sua età. Cerchiamo di mantenere quello che è il target di qualità che abbiamo mostrato in questi ultimi anni, andando anche a soddisfare un po' tutte le esigenze. Come diceva Don Roberto, avremo anche quella parte neomelodica con Tommy Riccio, avremo la parte popolare con gli eventi di Ugo Maiorano e chiuderemo il 16, come diceva Don Roberto, con un evento di caratura nazionale che è il concerto di Alex Britt. Un programma veramente degno di nota, dobbiamo dirlo, molto molto ricco e variegato. A dire la verità, noi non ci siamo fermati perché le attività, il programma estiva, è cominciato già da luglio, con tante manifestazioni, con spettacoli teatrali, rassegne, sempre patrocinate dal comune, perché il comune è sempre vicino a tutte le associazioni che vogliono migliorare, che vogliono rivalutare il nostro territorio. Noi saremo sempre accanto a loro ad aiutarle. Piazza, piazza Michelangelo Capua, è il cuore della devozione di tutti i sarnesi. Lì c'è la Madonna delle Tre Corone nel suo santuario, lì c'è l'Immacolata Concezione, lì c'è il San Michele che si porta in processione, quindi è il cuore della devozione di Sarno e lì poi ad agosto c'è la festa più grande della città che è in onore della Madonna delle Tre Corone. È una tradizione particolarmente sentita, ci sono tanti sarnesi che lavorano fuori ma che tornano per Ferragosto. Sì, tantissimi tornano in questa settimana per partecipare anche alla festa, infatti tra le tante cose che viviamo in questi giorni, la messa delle undici e mezzo in santuario del 15 agosto è la messa che dedichiamo agli emigranti dando loro un attestato con l'immagine della Madonna, ogni emigrante che arriva, la festa dell'emigrante la chiamiamo.